Siamo fuori dal mondo, ecco la cultura della destra, un sindaco che dice che è la casa di tutti, quella del comune che non ha mai ricevuto nessuno a casa sua. Basta, cambiamola, domenica abbiamo questa possibilità, dipende molto da voi. Grazie. Grazie ancora a tutti, a tutti voi, se mi sono scordato di ringraziare qualcuno mi scuso, Antonella, Mazzocco, Maurizio, Melissa, Nemi, tutti quanti voi grazie e brindiamo. Domenico De Vincenzi sindaco, grazie.